Questa gara è vera di storia, vera di storia di Daniele Ruttiani davanti alla rinforzata alla terza posta scontrata nella storia, l'attenzione! Gli ultimi chilometri c'è stata molta gente che ha attaccato, il gruppo si è un po' allungato, siamo rimasti in pochi, dopo è partito sull'ultimo strappo rota, sono riuscito a recuperarlo e sono riuscito a passarlo via negli ultimi metri. La dedica? Vorrei dedicarla al nostro presidente Roberto Girelli che purtroppo è venuto a mancare negli ultimi mesi. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!